Chissà che cosa troviamo di strano in quest'autogrill Qui c'è il sushi formato gigante pure qui Chuka Chups è gigante Ok ragazzi abbiamo trovato un autogrill che è veramente mini 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 È un mento Sì ma hai visto? È un ippopotamo che tiene in mano un mento Il bubble Ma sì ma qui ci sono scritte diverse Nooo Maxi, guarda Giorgia Guarda quant'è Vediamo è alto quanto te Vediamo Com'è Giorgia? Blah